Passiamo al volley, i tre protagoniste della Mattia Ornavasso che domani gioca con una tradata e sono venuti a trovarci nei nostri studi. Sentiamo cosa ci hanno detto. Domani sarà una partita bella, noi siamo già pronte perché all'andata abbiamo lasciato un punto che adesso non ci possiamo più permettere di lasciare qua e là. È una squadra che difende molto quindi non dobbiamo perdere la pazienza e far valere le nostre capacità. Si dice che questo campionato sia una sfida A2 tra Mattia e Monza, lo dice la classifica, però credo che sarà determinante per stabilire chi salirà direttamente in Serie A2. Saranno determinate le partite contro Settimo, contro Vigolzone, contro quelle squadre che ambiscono i play-off. Sì è vero, già adesso settimana prossima troviamo Castellanza che è una squadra molto ostica e all'andata avevamo fatto bene, però comunque sono cresciute durante tutto il campionato e hanno dimostrato di essere veramente una buona squadra. Chieri ha avuto adesso un calo, ma comunque abbiamo visto che quando si gasano, essendo delle ragazze giovani, giocano molto bene, anche se secondo me Vigolzone riuscirà ad avere il terzo posto. Almeno se gioca come ha giocato contro uno di noi sabato scorso, è veramente dura per le altre, perché fisicamente e anche tecnicamente sono veramente molto forti. Quindi io credo che Vigolzone potrebbe arrivare terzo e poi c'è una lotta tra Chieri, Castellanza, Settimo, sono queste le squadre più quotate. La notizia è che se la Loda è recuperata, ormai alle spalle l'infortunio alla caviglia sinistra, pronta a dare il tuo contributo. Sì, sono pronta e carica per le prossime partite. Avevo già riniziato da settimana scorsa gli allenamenti e quindi siamo tutte comunque pronte, tutte abili per la partita. C'è un fattore, c'è una giocatrice su cui scommettere per far pendere l'ago della bilancia dalla vostra parte in questo finale di stagione? Non ce n'è una in particolare, siamo tutte comunque in base, ognuna pernesso fondamentale, riusciamo a dare qualcosa. Come squadra riusciremo a far bene. A vincere, volevi dirlo, poi ti sei bloccata. Esatto.